Grazie per il suo intervento. Un po' squadra è stata fatta proprio in occasione del piano di emergenza per il maltempo da parte del Comune e della provincia. Sì, diciamo così, che ha ragione in fondo, noi dobbiamo preoccuparci dei soggetti più deboli, quelli che stanno in maggior stato di sofferenza continuamente, non soltanto a spezzoni. Certo è capitato in un periodo di emergenza e quindi dobbiamo dare delle risposte, sia pure a livello preventivo, perché poi grazie a Dio il tempo non è stato proprio così cattivo e disastroso nei nostri confronti, però era bene intervenire, prevenire, piuttosto che trovarci poi con situazioni pesantemente critiche e nello stesso tempo era uno stimolo anche a livello quasi educativo nei confronti di tutte le altre istituzioni, ma anche dei cittadini stessi ad aiutare chi sta in una posizione più debole rispetto alla nostra, chi è meno fortunato rispetto a noi e si è divenuti a questo progetto di emergenza soltanto. L'ideale sarebbe ovviamente prendersi cura di queste persone per tutto l'anno e non soltanto limitato ad uno spazio temporale, vuoi l'emergenza, vuoi il periodo invernale. Sono contento che il telespettatore richiami questa opportunità, questa necessità che io vedo però allargata, ampliata, non soltanto per quanto riguarda questa situazione o questa problematica, ma per tutte le problematiche emergenti che vive il nostro territorio, che vive la nostra città, Bari, la nostra provincia, la nostra regione. Io non mi stanco mai di dire, l'ho detto sì dal primo momento in cui voi mi avete ospitato, che vorrei tanto aprire un colloquio, un tavolo di interventi con il Comune e la Regione. Sono passati circa tre anni, sto aspettando ancora che questo tavolo si apra. In verità bisogna fare una precisazione, ci sono delle strutture, delle cooperative in particolare che operano in appalto, sono sovvenzionate fondi comunali, che già si occupano di offrire assistenza a tutti coloro che non hanno una fissa dimora. In particolare ricordiamo per esempio, Arianna, adesso non ricordo bene il nome, però c'è una cooperativa che tra l'altro ha un dormitorio che è stato interessato a questa rete dell'accoglienza, soprattutto un'emergenza maltempo. C'è tutto il volontariato, la rete attiva del volontariato che si occupa dei senza tetto. Ricordiamo però anche che ci sono molte persone che amano vivere per strada, lo fanno per scelta, nonostante molto spesso siano stati avvicinati da volontari per cercare una soluzione alternativa. Quindi una risposta da parte del Comune già c'è. Queste sono le situazioni emergenziali, chiaramente non siamo abituati a questi grandi freddi che possono mettere a repentaglio la vita di molte persone che hanno vivere per strada. Considerate che il nostro impegno, come provincia parlo, è un impegno aggiuntivo perché noi non siamo deputati a tanto, deputati a tanto è proprio il Comune e noi invece siamo andati in conto all'esigenza. Andromeda, scusate, Andromeda, ho ricordato il nome dell'ambito. Ma ci sono anche altre associazioni che si interessano di tanto, incontro, eccetera. Voglio dire, ma anche la Caritas stessa si interessa. Noi siamo andati in conto a questa esigenza emergenziale da parte del Comune. Non è compito nostro, non è affidato a noi, non abbiamo deleghe a tal proposito. Eppure questo lo abbiamo fatto. Anzi mi corre l'obbligo di ringraziare anche l'impresa Ladisa che ha contribuito in maniera del tutto gratuita a far sì che questi 70-80 ospiti avessero anche un vitto e quindi il vitto è costato praticamente 0 euro alle istituzioni e in questo caso alla provincia. E di qua quindi il mio ringraziamento nei confronti di questa impresa. Da sottolineare anche che soprattutto a fronte di questa emergenza il Comune di Bari ha dovuto ospitare anche magari molte persone che dalla provincia si sono riversate nel capoluogo per trovare appunto un'accoglienza più calda anche con un pasto caldo. Ma tra i 70 rotti ospiti o persone di cui noi la provincia si è presa a carico parecchie sono proprio della murcia, parecchie vengono cioè dalle zone che hanno sentito maggiormente il peso del gelo, del freddo e della neve. E della neve infatti. Andiamo avanti 08501 9998. Vi ricordo sempre il numero per intervenire. Leggiamo un'altra mail, ci scrive un altro telespettatore che chiede se quest'anno provvederete a scorrere la graduatoria di agente di polizia provinciale considerando il grave deficit organico di questo settore. Le chiede anche se, il telespettatore le chiede anche se, considerando il blocco delle graduatorie pubbliche fino al 31 dicembre 2015 considerando che la polizia provinciale è diventata in Puglia polizia locale esensi di una legge promulgata dalla regione Puglia nel 2011, nel caso di comuni vicini che abbiano bisogno di polizia locale, se si può attingere a questa graduatoria? Ma credo che abbia già disposto. Noi siamo un ente locale che non possiamo assumere nessuno, abbiamo avuto il blocco delle assunzioni, peraltro si sta discutendo se sopprimerlo o meno, quindi è impossibile poter scorrere la graduatoria. No, chiede anche, siccome c'è una legge regionale che ha parificato in sostanza la polizia provinciale e la polizia locale, se nei comuni da dove ci fosse bisogno... Ma noi non rispondiamo alla regione, non rispondiamo al governo. Chi ci fa uscire dal patto di stabilità non è la regione, ma semmai è il governo. Quindi anche qui sarebbe necessario, insieme alla regione, istituire quel tavolo di concertazione per vedere quali sono le priorità, quali sono gli stati o gli stadi emergenziali da dover affrontare nell'ambito di una conduzione amministrativa più consona, più rispettosa anche dei bisogni dei cittadini. Allora, visto che abbiamo affrontato l'emergenza maltempo, le chiedo anche di spiegare in dettaglio questa mano tesa da parte della provincia di Bari nei confronti di tutti coloro che hanno vissuto in grande difficoltà per questa emergenza freddo, possiamo definirla, perché fortunatamente almeno da noi nella nostra città non ha nevicato. si era parlato inizialmente di una disponibilità della Fiera di Levante per ospitare tutti coloro che non hanno una fissa dimora, invece poi per l'indisponibilità di alcuni locali della Fiera di Levante perché sono semplicemente sprovvisti di riscaldamento, la provincia ha provveduto a trovare un'ubicazione nel provveditorato di studi. Sì, che è una struttura della provincia, il provveditorato di studi è un palazzo della provincia, e quindi lì abbiamo attivato un piano che era stato da poco anche ristrutturato e abbiamo potuto ospitare queste persone. Mi dispiace soltanto, ma è stato superato comunque perché nessun locale della Fiera di Levante era disponibile, aveva il riscaldamento. Poi ho ricevuto qualche telefonata anche da qualche ex presidente della Fiera di Levante che mi ha detto che è una grossa menzogna perché ci sono i riscaldamenti. Comunque, non dobbiamo fare polemiche soprattutto sulle disgrazie della povera gente. Ne vi prego di continuare su questo argomento perché diventa un fatto quasi offensivo. Le opere caritatevoli non meritano, non devono essere propagandate, si fanno e basta. Il problema è che lì non deve mai dire ad un giornalista di non scoperchiare il vaso di Pandora perché notoriamente lo farà, quindi se lei mi dice che c'è stata una sorta di indisponibilità da parte del presidente Viesti. No, no, presidente Viesti, il venerdì mi aveva dato la sua disponibilità, era stato cortesissimo, sabato mattina mi ha chiamato le 9-4, diceva che c'è questo problema, non abbiamo locali discaldati, stop. Ho dovuto provvedere in maniera diversa a tanto perché, insomma, dire a 70-80 persone non vi preoccupate che domani sarete rinfocillati, avrete il vitto, starete al caldo, eccetera, e poi non trovarli, insomma. Invece altre persone che hanno lavorato all'interno della Fiera di Levante le hanno assicurato che ci sono dei locali ieri scaldati. Così mi è stato riportato. E lei non ha sentito il presidente Viesti per chiedere contezza di questa... Lo sentito stasera, lo sentito stasera alle 19. Per chiedere contezza chiaramente di questa indisponibilità. Sì, guardate, insomma, non credo che... Io credo che dobbiamo essere alleati nel bene comune, dobbiamo essere al servizio del bene comune. Io su queste cose non... Ci ragiono diversamente, ecco. Va bene, andremo a fondo a questa questione, però, insomma, sì, mi sembra che, diciamo, il terreno della solidarietà non debba avere, come dire, baricate? Ma no, deve avere una coesione cristiana da parte di tutti, basta. Va bene, cerchiamo di capire, magari erano locali, che ne so, forse già occupati, quindi erano... No, era l'ex cassa per il mezzogiorno, quindi entrando in fiera a sinistra. Ah, ok, per intenderci il palazzo del mezzogiorno, quello che doveva essere utilizzato anche dal PDL, effettivamente lì il riscaldamento c'è, perché recentemente c'è stato anche il congresso del PDL, non mi sembrava che si morisse di freddo, quindi probabilmente ci sarà stato qualche problema, chissà, magari... O forse non è una stanza a fianco, non sarà una a fianco, non ho idea, comunque mi è stato riferito così, l'essenziale è che abbiamo 18 problemi. Dobbiamo cercare di capire cosa è che è accaduto, magari... L'essenziale è aver risolto il problema, non ci dobbiamo mettere nessuna medaglia sul petto, perché è un atto di solidarietà umana che abbiamo fatto, poi come l'abbiamo fatto, con chi l'abbiamo fatto, eccetera, non ha poca importanza. Diciamo anche che è un dovere da parte di... È un dovere istituzionale, certamente sì. Assolutamente sì. 08501 9998, se volete intervenire in diretta, andiamo avanti e parliamo di un'altra questione calda, sicuramente, che è la nomina del nuovo sovrintendente per la Fondazione Petruzzelli. Ci sono stati degli incontri in extremis, convocati nel CDA della Fondazione Petruzzelli, che addirittura avevano messo in minoranza il presidente della Fondazione Petruzzelli, il sindaco Michele Emiliano, autoconvocando una riunione del CDA. In sostanza, tutti i componenti del CDA hanno convenuto su una strategia, che è per la nomina del sovrintendente, che deve rispondere a quella della fretta, cioè nel senso della nomina in tempi molto brevi, soprattutto considerando anche la disponibilità di queste grandi personalità che sono state considerate tra i papabili ad occupare quel ruolo. Sembra, insomma, che la sovrintendenza targata Vaccari sia ormai considerata tramontata, nel senso che si provvederà alla nomina di un nuovo nome, ma pare che questa nomina abbia creato qualche attrito, almeno secondo delle informazioni sulla stampa circolate nei giorni scorsi, abbia creato qualche attrito tra lei e il vicepresidente Ruccio Altieri, che siete tra l'altro come componente per la provincia del CDA del Petruzzelli.